L'associare il divertimento alla crescita o a qualsiasi tipo di percorso che vogliamo fare per implementare qualcosa di nuovo è quello che mi permetterà di avere sempre il motivo per farlo, cioè non è la performance una volta al mese che fa fare la differenza. Certo, in ambito sportivo ogni tanto la performance serve, ma non è quella che fa la differenza è molto più importante riuscire a mantenere e a confermare un certo tipo di risultato magari leggermente inferiore, ma che sono in grado di replicare e migliorare un po' alla volta piuttosto che avere un risultato incredibile e poi sparire. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti!